ciao a new benvenuti in questo nuovo video di sangue rosso nero raga e anche oggi abbiamo asfaltato gli avversari peccato che il campionato sia finito peccato veramente perché ora tutti abbiamo la curiosità di vedere questo milan partendo da zero con le altre squadre appunto vedere quello che potrà essere la nuova stagione comunque partita anche qui col cagliari è stata una partita dove li abbiamo tranquillamente massacrati sicuramente il cagliari aveva la testa un pochino in vacanza ma anche noi avevamo la testa un po in vacanza nonostante ciò abbiamo visto un ibra che a 38 anni distrugge la porta se il portiere metteva la mano su quel tiro rischiava di spezzarsela letteralmente un gabbia raga un gabbia veramente impressionante io mi approfitto in questo video per fare anche le pagerle perché tra domani e lunedì farò le pagerle della stagione dell'intera stagione partendo subito con gigio che non ha dovuto fare grandi parate stasera comunque col cagliari però una decisiva la fatta sul 3 a 0 dove si stende miracolosamente giocco alle varso il 6 e mezzo calabria ragazzi calabria da 7 calabria sovrapposizioni più veloce degli avversari raga preciso nelle chiusure in difesa rischiato anche di arrivare al tiro un paio di volte ha messo cross interessanti se si le monetizzate si monetizza ma se calabria fosse questo gli cederei conti ragazzi se calabria fosse questo ho paura però di questa cosa per quanto riguarda invece kier simon di nuovo prestazione perfetta priva di sbavature un 7 che ci sta anche a lui tranquillamente è una certezza credo che non sia un caso comunque parliamo di giocatore di esperienza che ci tornerà utile nella prossima stagione gabbia raga 7 e mezzo parliamo di un ragazzo alla nona presenza in serie a delle cappellate le può fare anche lui bisogna capire che le può fare comunque a qualità ma è un ragazzo che gioca con una personalità gioca di anticipo non ha paura di giocare palla tra i piedi marcatura sempre molto attento è un ragazzo di 20 21 anni alto 1 90 un difesore che può crescere ancora tanto dunque non occorre andare a prendere un altro giovane in difesa perché con gabbia stiamo a posto teo 6 e mezzo non ha fatto il teo con le grandi sgaloppate che noi conosciamo ma a me sembrava un teo gioco la testa in vacanza obiettivamente ci sta ci sta tirato ha tirato veramente sulla fascia per tutto l'anno si è preso giusto gennaio un pochino in calo ma per il resto raga teo mostruoso sempre oggi si può perdonare una partita un po più in ombra ci sta benasser e questi in coppia 7 e mezzo a tutte e due rubano palle impostano ormai sembra un disco rotto raga questi due ormai si conoscono a memoria nel modo di giocare si scambiano spesso la posizione magari che sia un po più impreciso oggi però ci può sta l'ultima partita raga niente da chiedere ci può sta e comunque sia ragazzi io dico sempre che vince l'aiuto a vincere e bisogna avere la malattia della vittoria a voler sempre vincere chi sei amichevole il mina deve scendere sempre così dunque questa è una partita che può sembrare non valere nulla e fine la classifica ed è così ma mentalmente vincere ti porta quella concentrazione quella voglia e quell'odio quella in abitudine a perdere perché questa era una squadra abituata a perdere ormai dunque anche se una partita non contava niente questa vittoria di oggi è importante psicologicamente cianoglu 7 smista palloni assis cross si sbaglia un gol ma abbiamo messo cianoglu sempre nel vivo che gioca con una certa tranquillità ormai quando ha palla tra i piedi sai che può costruire che può succedere qualcosa per quanto riguarda invece casilleio 6 a me non è piaciuto molto confusionario al tiro delle ciabattate facile al portiere per cranio cianoglu che io un castileio che onestamente non per oggi ma in genere cederei perché se si depre un top su quella fascia sì se scende sale me che nei tersini puoi tenere casilleio secondo ma raga buon giocatore ma nulla di più come riserva ci starebbe per carità per quanto riguarda invece le ha 8 fino ai 38 minuti che ha giocato una rovesciata incredibile che becca l'incrocio dei pali che la anche se non c'è nessuno a san siro io la sono saltato dalla sede obiettivamente appena ho visto la traversa la rovesciata ma porco ma don le ha veramente quando sta in partita raga salta l'uomo imprendibile tecnico che dire questo è un ragazzo che se rimane con la testa può diventare veramente forte forte una seconda di una prima punta ma come movense è un ala barra seconda punta raga fortissimo eh per carità ibra ha sbagliato il rigore ma idotto lo sapete perché la differenza tra un campione giocatore normale è questa ricordatevi guaini quando sbagliò il rigore con la juve è vero che era il cagliere oggi per carità però quando sbagliano alcuni giocatori si afflosciano si nervosiscono lui appena ha avuto la palla buona ha tirato una cness di shabar una bomba che il portiere l'ha con la mano ha fatto ha levato la mano poi se il pallone ha guandava la mano gli spaccava la mano il portiere detto proprio barese eh dunque questo a 38 anni numeri su numeri dribbling continua ad essere mostruoso raga io non scherzo io quando dico che gli faccio un biennale non scherzo questo per me fino 2-3 anni ancora di calcio con quel fisico ce li ha poi naturalmente per quanto riguarda i subentrati breccianini sei in mezzo è entrato con personalità è piaciuto ragazzo bello forte anche fisicamente ci potrebbe stare ma io lo manderei a fare esperienza e porterei indietro pobe che vi assicuro che pobe che è forte nella cifra raga eh maldini danielo un po' più timido duarte non giudicabile per il resto raga noi penso che più o lì 7 se lo meriti obiettivamente perché questa squadra gioca a memoria vedremo subito ora a settembre magari io mi aspetto qualche problema in più però se grosso modo il milan resta questo come modo di giocare come modo di pressare con una forma fisica simile atalanta si arriva a quattro quarto posto facilmente e piori sta dimostrando di essere un allenatore più moderno di quel che si pensava perché il milan ha un'impostazione di calcio simile europea pressing ritmi velocissimi un 4-2-3-1 simile a quello che il modello Borussia Dortmund e anche cloppiano tra virgolette stile clopp dunque raga speriamo bene che ci siano dei rinforzi sul mercato perché se uno alla destra e un terzino sinistro come Cristo comanda e delle riserve all'altezza ha detto pure più ne sono contento per questo iscrivetevi forza milan ci sentiamo presto ciao raga